Cominciamo puntualmente e mi fa molto piacere di presentare due antichi amici, non dico vecchi perché io sono più vecchio di loro, più antichi amici come appunto Beppe Cambiano e Giacomo Marramau, sapete filosofi tutte e due, filosofi di discipline diverse ma appunto che insegnano rispettivamente alla normale di Di Pisa e a Roma 3, di cui avete però tutti gli elementi identificativi nel nostro programma complessivo. Il tema, come sapete, è molto impegnativo perché l'utopia della cittadinanza universale tra passato e futuro vorrebbe dire, se fossimo corretti, coprire almeno duemila anni di storia, che come capite non è nemmeno immaginabile. Allora io mi limiterò semplicemente a sollevare qualche problema, soprattutto dei periodi intermedi che separano appunto l'antichità classica e quindi i greci e i latini che hanno sollevato questo problema dai contemporanei che poi appunto Giacomo riprenderà, per dire che ci sono delle questioni, no? Che i nostri relatori se vogliono potranno riprendere e approfondire e voi stessi appunto chiedere appunto nella fase poi che dedicheremo alla discussione. Allora io parto dalla prima delle questioni che a me sembra rilevante, cioè quella della guerra, perché è facile parlare di cittadinanza universale, ma in realtà, come sapete, il genere romano è stato sempre oppresso e in molte parti del mondo continua ad essere oppresso tuttora dalla guerra, no? Quella che Araclito chiamava la madre di tutte le cose, che ha sempre accompagnato i processi, anche altri invece che non si richiamavano alla guerra. Non si richiamavano alla guerra, secondo punto, quando appunto i momenti di crisi acuta, direi, del rapporto tra potere politico centrale, lo Stato o quello che c'era per lo Stato, la città-Stato e i cittadini, momenti di conflitti, come in parte sta tornando ancora oggi, il mondo antico e la modernità hanno incominciato anche a immaginare ipotesi meno violente, meno cruente, come appunto l'idea della cittadinanza universale, che è stata, nello stesso tempo, direi, nei vari momenti in forme diverse, sia una riflessione molto lungimirante sulla storia, sia un invito proprio ad agire, un invito potente ad agire in nome dei diritti che inizialmente si chiamavano naturali dell'uomo, qualcuno continua a chiamarli ancora tali, come il Papa per esempio, in particolare questo, e in nome della giustizia. E così successe, dopo il crollo dell'ordine politico nelle città greche, come vedremo meglio poi con Beppe, quando i maestri della Stoa invitarono a guardare questa visione più ampia alla comunità più grande, che abbraccia tutte le genti, perché come ricordava Zenone Cizzico, tutti gli uomini sono parenti, questo richiamo alla famiglia in grande. E anche nella fase delicata di passaggio dalla Repubblica Romana al Principato, Cicerone, che si rifaceva a questa stessa impostazione, ammonisce che l'amore del genitore nei confronti del figlio è proprio il punto di partenza della, come dice, reciproca solidarietà degli uomini fra di loro. O dovrebbe essere, anziché chiuderli, no? Dovrebbe essere. E poi la frequentazione pubblica, le assemblee, l'ordinamento repubblicano, sono immaginati da Cicerone come una prima proiezione di questa attitudine più o meno innata alla socialità. Per venire un pochino più avanti, la terza questione, cioè dopo questo primo esordio greco e romano, nell'Europa antica e moderna l'idea cosmopolitica è raffiorata più volte, sia nella veste di una Repubblica cristianamente fraterna. I primi messaggi scritti che il Papa ha lasciato, che ho cominciato a vedere, parlano proprio di questo. Papa Francesco parla proprio di una Repubblica fraterna, no? Che si vedrà poi in che cosa si concretizzerà. Sia in chiave antiassolutistica, no? Durante gli anni della formazione degli stati moderni, sia come esigenza di un idioma comune, su cui credo che appunto Gianluigi Beccaria e Severnini si sono confrontati per la contemporaneità, proprio ieri, se ricordo bene. Ma la cosmopoli delle origini è stata discussa dai grandi pensatori politici, di cui prevalentemente oggi ci occupiamo, come sappiamo, soprattutto dopo il grande moto rivoluzionario francese, dopo l'89, quando appunto si fece astrazione dal cittadino francese per rigenerare, in nome dei diritti dell'uomo e soprattutto dei suoi valori fondamentali che venivano visti nella libertà, nella eguaglianza e nella fraternità. Kant, per citare uno dei pochissimi e soprattutto alcune parole che a me sembrano significative e che per esperienza so quando sono significative davvero nei grandi pensatori che restano non solo nella mente ma anche nel cuore, soprattutto dei giovani, dare qualche spunto per ritornarci con calma, proprio nel saggio sull'illuminismo Kant aveva stimolato, come sapete bene, il soggetto a usare liberamente la propria ragione. Era una glorificazione proprio dell'uomo libero, no? Compos sui. Mentre l'ultimo Kant, quello della pace perpetua, no? Quella della pace perpetua, a me sembra soprattutto un profeta che invita i cittadini del mondo a forse a farsi forti dei loro diritti perché non sono ancora stati realizzati. Il primo Kant è quello illuminista che voleva rischiarare le menti, quello ultimo intende rafforzare la volontà degli individui sulla praticabilità dei fini giusti, no? Quelli della pace perpetua. E qui c'è un passo sul diritto di visita che a me è sembrato sempre straordinario, che mi limito rapidamente a citarvi, quando lui dice, no, che perché questo progetto cosmopolitico si possa realizzare negli anni, probabilmente Kant era troppo attento, però immaginare ci sarebbero voluti secoli, no? Quando dice, se si riconosce agli individui, a tutti gli individui, quello che lui chiama il diritto di visita, ossia la possibilità di entrare a far parte della società in virtù del diritto comune al possesso della superficie della Terra, sulla quale, essendo sferica la Terra, gli uomini non possono disperdersi all'infinito, ma devono all'ultimo rassegnarsi e a incontrarsi e a coesistere. Ecco, questo straordinario diritto di visita a me è sempre sembrato molto importante. Condorcet, qualche anno dopo, va ancora più avanti, l'ultimo De Filosof in Francia, no? Braccato dai Giacobini, come sapete, nel 1993, scrive quel suo esquisse, quel suo abbozzo, sullo sviluppo dei progressi e del perfezionamento umano, e invita, come sapete, come vi ricorderete, il primo grande filosofo che invita a superare le distinzioni, le discriminazioni sulla base del paese di appartenenza, che non bisogna più del colore della pelle, del sesso, dell'estrazione sociale, della religione, una massima apertura, anche grazie a Sophie de Grouchy, quella donna straordinaria che gli aveva accanto a sé, e che gli suggerisce tantissimi di temi di riflessione, come poi capirà, tornerà, succederà a Mil, qualche decennio più tardi. E quindi dice, per promuovere un reale perfezionamento della specie umana sarà necessario, quando saremo in grado, di distinguere il progresso dal perfezionamento della specie, che sono due cose diverse, il perfezionamento della specie è molto più esigente, equiparare le opportunità professionali e culturali di uomini e donne sul piano interno, e dividere equamente le ricchezze a livello internazionale. Un tema su cui stanno parlando tantissimi filosofi economisti di oggi, a partire da Stiglis e altri, come credo Giacomo ci farà vedere poi. Ma penso, e qui veniamo al quarto, questa è l'ultima questione che suggerisco, mi pare che comunque sia stato il Novecento essenzialmente a creare le due condizioni generali oggettive per la riproducibilità e la simultaneità del sogno, se vogliamo chiamarlo così, della cittadinanza universale, cioè l'individuazione di uno spazio pubblico che giunge ad abbracciare il sistema mondo, anche per ragioni economiche strette, e la possibilità sempre più sofisticata, come hanno dimostrato i movimenti giovanili della rete, non solo della rete, di trasmettere e ricevere in tempo reale qualunque messaggio, che certamente chi apparteneva ai secoli precedenti non aveva potuto utilizzare. E questo richiamo ai movimenti trasnazionali più recenti, fatemelo dire a un vecchio sessantottino come me, fa venire in mente per associazione proprio una delle caratteristiche che a me sono sempre parsi più rilevanti del 68 studentesco, ossia l'assunzione in termini nuovi proprio della prospettiva planetaria. Se si va a vedere i saggi, gli articoli che molti studiosi hanno dedicato al 68, penso a Peppino Ortoleva, Marco Revelli, Marcello Flores, Remo Bodei, tutti questi autori hanno convenuto che il movimento del 68, indipendentemente dal luogo in cui si è manifestato, è stato costruito proprio intorno alla polarità mondiale-locale, cioè con un nesso molto forte, simultaneo, tra i comportamenti politici assunti a livello locale e invece il quadro più generale dei diversi paesi maturati, maturato a quadro a livello internazionale. Ci sono due righe di Marco Revelli che io condivido pienamente quando lui dice che il 68 tratta lo spazio globale come uno spazio omogeneo all'interno del quale non è più possibile stabilire internità ed esternità, individuare qualcuno che è fuori e che è altro, da chi invece è dentro. Il soggetto del 68 non sono i popoli, ma l'umanità. Vedete, un richiamo, in termini nuovi, una volta ancora, in cento luoghi diversi, i giovani hanno incominciato a guardare come gli antichi maestri della Stoa non al proprio paese offeso, ma alla comunità più grande che abbraccia tutte le genti simili, per tornare ancora alle parole di Zenone Cizzico, a un gregge solo che pascola nel medesimo prato, ma senza pastore, tendenzialmente autosufficienti, perché in questo quadro non c'è bisogno di pastori e di bastoni. Ed è per questa dimensione puntiforme, insieme culturalmente omogenea, io ricordo bene che nelle aule occupate di allora, di Palazzo Campana, in particolare per chi di voi vive a Torino, che si riprese a ripetere e a cantare insieme nostra patria e il mondo intero. Qualcuno degli amici che sono qui, come Cesare Piagiola, lo ricorderà, ma anche Gianluigi Beccaria e gli altri amici. Nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà è un pensiero ribelle in cor ci sta. Lo cantavamo con o senza chitarre ed è un fatto, secondo me, significativo di questa visione tendenzialmente mondialista che già allora entrava in circolazione. Ultima accettazione. Ho visto che l'ha ricordato anche la stampa qualche giorno fa. Sempre nel Novecento, come sapete, dopo la fine della Grande Guerra Mondiale, proprio parlando ai suoi studenti, un autore realista che ha parlato del disincantamento del mondo, come Max Weber, ripetè, ricordate quella frase che io ritrovo pure straordinaria, è perfettamente esatto e confermato da tutta l'esperienza storica che il possibile, l'aggettivo secondo della nostra biennale democrazia quest'anno, il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. Quindi un'utopia, un'idea che pure da realisti lui prendeva in considerazione. e finirò terminando citando ancora una frase anch'essa che mi ha sempre colpito di Nelson Mandela che nell'aprile del 64 mentre veniva condannato, come sapete, all'ergastolo e poi alla fine, come sapete, ha vinto, in qualche modo, quando lui di fronte ai propri giudici disse ho combattuto contro la dominazione bianca e contro la dominazione nera. Ho accarezzato l'ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone vivano insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di vivere e che spero di raggiungere, ma se sarà necessario è un ideale per il quale sono pronto a morire. Ecco, non è morto per fortuna e de Klerk e gli altri che lo avevano condannato hanno dovuto riconoscere che ancora oggi in Sudafrica è un grande tema aperto quello della liberazione complessiva. Giunto di tutti i popoli di colore e non di colore. Cioè, I have a dream, come aveva ricordato Martin Luther King che pure era morto per aver pronunciato questa frase ma Mandela no a ricordarci che i sogni sono una cosa importante se poi diventano pratica vissuta. A questo punto e chiudo faccio le domande che vi dicevo ai nostri interlocutori a partire da Beppe Cambiano che parte da più lontano e gli chiederei che se nonostante le discriminazioni forti che hanno subito sempre settori più deboli dell'umanità nonostante ci siano state queste discriminazioni che continuano ancora oggi perché questa idea antica proprio antica della città cosmopolitica non è stata uno dei tanti sogni che muoiono all'alba. Ecco. Ma invece è rimasta. E a Giacomo quali aspetti del cosmopolitismo contemporaneo potranno diventare nel medio periodo per riprendere l'espressione di Weber una pratica possibile e quali altri invece appaiono discutibili e rischiosi ossia si intravedono vie attraverso cui il mondo politico e la società civile possono tenere il passo della globalizzazione senza tradire l'idea dell'eguale rispetto di ciascuna persona. Io mi fermerei qui e se siamo d'accordo dare subito la parola a Beppe Cambiano. Grazie. Spero di riuscire percorrendo il mondo antico a dare una risposta al quesito posto da Franco Sbarberi anche se non sono sicuro. La parola cosmopolitismo come molte parole del nostro lessico politico ha un'origine greca. Si forma da due altre parole che sono cosmos e polites metto insieme e traduco cittadino del mondo. È un'espressione relativamente rara nel mondo greco la documentazione è abbastanza scarsa dove l'atteggiamento prevalente sembra invece espresso da un'affermazione attribuita a Talete il primo filosofo. Questi ringraziava la sorte di tre cose in primo luogo perché era nato uomo e non animale in secondo luogo perché era nato maschio e non era nato femmina e in terzo luogo perché era nato greco e non era nato barbaro. Per altri questa risposta sarebbe stata data da Socrate per esempio per Cicerone. Chiestogli di che paese fosse Socrate avrebbe risposto Mundanus del mondo. In realtà Platone mostra che Socrate considerava Atene il suo mondo. pensiamo a un dialogo come il Critone dove Socrate era inchiuso in carcere dopo la condanna argomenta che non intende evadere ed andarsene in esilio all'estero tradendo così la sua città Atene sotto le cui leggi lui era vissuto tutta la vita. In realtà è probabile che l'espressione Cosmopolites sia stata coniata dai filosofi cinici che in qualche modo si richiamavano anche loro all'insegnamento di Socrate. Alcinico Diogene è appunto attribuita questa stessa risposta di essere cittadino del mondo. Ora a ben vedere questa espressione era uno simoro cioè una contraddizione in termini nella situazione storica in cui si trovava a vivere Diogene cioè la seconda metà del IV secolo avanti Cristo. Che cosa significava infatti in quel tempo essere cittadino? significava essere membro a pieno titolo di una polis e in una città come Atene dove Diogene soggiornò per un certo periodo questo status di cittadino comportava per i maschi adulti figli di cittadini ad esclusione quindi di donne bambini stranieri residenti e schiavi la prerogativa non solo di poter partecipare alle assemblee nelle quali si prendevano decisioni di interesse generale per la comunità ma anche di poter essere sorteggiati a far parte delle giurie dei tribunali e a ricoprire a turno cariche pubbliche che andavano in campi più svariati con responsabilità che andavano dalla manutenzione delle strade alla sorveglianza dell'approvvigionamento idrico o dei mercati e così via cioè a compiti che noi definiamo amministrativi anche limitatamente a individui adulti di sesso maschile come era possibile allora estendere questa prerogativa a membri di un intero cosmo cioè essere cittadini in senso politicamente attivo al di fuori di una polis addirittura nell'intero mondo abitato credo che questa parola e questo è l'interrogativo centrale che a mio modo di vedere ci pone questa parola in realtà di oggi e ne per quel che ne sappiamo non pensava a realtà politiche che esulassero dalla forma allora dominante cioè la polis cioè un piccolo stato una piccola comunità di cittadini in che senso allora si qualificava come cosmo politis quasi sicuramente intendeva dire che il saggio o il filosofo come lui riteneva di essere può condurre la propria vita in qualunque luogo del mondo abitato senza essere vincolato a una specifica città ed effettivamente di oggi ne condusse una vita di questo tipo in molti luoghi Atene Corinto Olimpia ciò significava però essere esule dalla propria polis d'origine e in fondo uno straniero ovunque in altre città quindi privo dei diritti politici propri dei cittadini e non era il primo a porsi deliberatamente in questa situazione di estranità la propria polis d'origine penso da Nassagro ma anche dopo di lui molti altri filosofi antichi avrebbero fatto questo stabilendosi in città diverse dalla loro dove non erano più cittadini di fatto il cinico diogene definiva se stesso Apolis senza polis ma anche Aoi privo di casa e infatti come sappiamo viveva ramingo la giornata dove capitava con un semplice mantello una bisaccia avendo a volte come abitazione una botte nutrendosi dei resti dei mercati mendicando praticando atti sessuali in pubblico ciò non significa che intendesse andare contro le leggi della città semplicemente voleva sottrarsi ai bisogni artificiali indotti dalla vita associata limitando il suo vivere al soddisfacimento dei bisogni essenziali mirando quindi a una forma di autosufficienza il suo modello era dato cosa insolita per gli antichi dal comportamento degli animali e dei bambini ecco i bambini ci insegnano come dobbiamo vivere si tratta dunque di una coloritura prevalentemente negativa della parola cosmopolitismo cioè il rifiuto di essere vincolati a una singola ristretta comunità di appartenenza ma chi erano i membri di questa cosmopolis di individui autosufficienti è difficile sostenere che Diogene pensasse a tutti gli uomini del mondo allora conosciuto per quel che ne sappiamo non nutriva interesse per altre culture non uscì mai dai confini del mondo del mondo greco al ritorno da Olimpia dove si erano svolti i giochi avrebbe detto molta era la folla ma pochi gli uomini ed è ben noto l'aneddoto di Diogene che va in giro con una lanterna e alla domanda perché lo faccia risponde cerco l'uomo è chiaro quindi che i veri uomini membri della sua cosmopolis erano i suoi occhi ben pochi non bastava essere uomo in senso biologico né essere cittadino di una qualsivoglia città greca per essere un cosmopolita appartenente a questo ordine sovracittadino dotato di sue proprie leggi forse in questo orizzonte si collocava anche il detto attribuito a Democrito che ogni paese della terra è aperto all'uomo saggio perché patria dell'uomo virtuoso è l'intero cosmo e anche il presupposto di Diogene era che della cosmopoli fanno parte pochi individui accomunati da alte qualità morali intellettuali a ciò egli aggiungeva la sua marginalità radicale rispetto alla polis ma senza mirare a costruire una polis alternativa questo è il punto che coincidesse con l'intero cosmo cosa del resto chiaramente impossibile impensabile allora nei fatti ciò che invece lo sradicamento della polis consentiva di fare era l'assunzione di quello che potremmo dire un ruolo di trascendenza un ruolo critico rispetto alle istituzioni e alle regole morali correnti a chi lo biasimava per il fatto di trovarsi in una posizione di esiliato di oggi ne rispondeva che era essa che gli aveva consentito di filosofare tocchiamo qui io credo un punto decisivo della storia della parola cosmopolitismo che sarà sovente usata anche in molti secoli futuri per qualificare la posizione di intellettuali critici non appiattiti su appartenenze ristrette ma capaci di assumere uno sguardo tendenzialmente universale nel considerare le cose o nel prospettare nuovi orizzonti i filosofi stoici anche se non è documentato un loro uso dell'espressione cosmopolitismo ripresero ed estesero questo concetto aggiungendo una riflessione sull'unità del genere umano intanto la nozione di cosmo viene precisata già era Acrita un filosofo a cui gli stoici prestarono molta attenzione aveva affermato che il cosmo è lo stesso per tutti non prodotto da alcuno tra gli dèi o tra gli uomini nel gorgia platonico si dice che per alcuni sapienti il cielo e la terra gli dèi e gli uomini sono legati tra loro dalla comunicazione dall'amicizia dal buon ordine dalla temperanza dalla giustizia e perciò essi chiamano l'universo intero cosmos e non disordine né squilibrio dove cosmo chiaramente nella nozione di cosmo è inclusa anche una componente estetica pensiamo al nostro cosmetica ovviamente anche per gli stoici il cosmo non è soltanto lo spazio abitato dagli uomini e dagli animali e dalle piante quella che era chiamata o i cumene la terra abitata ma include anche il cielo gli astri e gli dèi in qualche modo anzi il cosmo coincide con la divinità stessa che grazie alla sua razionalità fa di questo spazio un ordine razionale in questo senso il cosmo non è solo la residenza degli dèi e degli uomini per chiarire questo punto gli stoici ricorrevano appunto alla analogia con la polis anche questo è un luogo di residenza ma è anche un organismo politico che risulta di cittadini e di semplici abitanti pensiamo agli stranieri e gli schiavi e tale anche il cosmo una grande polis nella quale gli dèi esercitano il comando al quale gli uomini sono soggetti in quanto la divinità coincide con la razionalità che esercita quindi un governo provvidenziale ma il riferimento a questo cosmo unico non metteva fuori gioco le appartenenze alla propria patria Cicerone dice che essendo il cosmo quasi una urbs e civitas comune di dèi e uomini gli stoici inferivano che ciascuno di noi in quanto parte di questa comunità cosmica per natura antepone l'utilità comune a quella individuale per cui è da lodare chi affronta la morte per la patria si è a volte sostenuto che il riconoscimento stoico di far parte di un unico cosmo generava un senso di solidarietà morale nei confronti di tutti gli uomini indubbiamente esso produceva la consapevolezza di far parte di un unico genere umano attingendo al patrimonio stoico sempre cicerone afferma che qualunque definizione si dia di uomo essa vale unitariamente per tutti gli uomini il che prova che non c'è alcuna dissomiglianza di genere tra gli uomini perché se ci fosse un'unica definizione non sarebbe in grado di contenerli tutti e ciò che accomuna tutti gli uomini per cicerone era e per gli stoici era appunto la razio la ragione ognuno nascendo dirà poco dopo Seneca è membro di due repubbliche una grande che abbraccia dei e uomini e dove i confini sono tracciati dal sole e un'altra assegnata dalla sorte a ciascuno e lui esemplifica con nome di città ma soprattutto con Roma come impero questo genera è una serie di doveri che travalicano i confini della propria città primo luogo il rispetto degli altri esseri umani dovunque si trovino e delle loro cose si tratta di una sorta di etica sociale estesa in linea di principio all'intero genere umano ma senza ricadute politiche in quanto non mette in gioco la distribuzione ineguale del potere né le demarcazioni per esempio tra liberi e schiavi in realtà legami più forti tra gli individui sia per Cicerone che per Seneca sono generati dice Cicerone per esempio nel De Officis da identità nazionali linguistiche familiari e cittadine da rapporti di amicizia e di interesse di qui emerge il carattere un po' astratto dell'universalità teorizzata dagli stoici con la nozione di cosmopolitismo che come sappiamo la stessa operazione la compiono sulla nozione di schiavitù di fatto teoricamente sembrano eliminarla dicendo che la schiavitù peggiore è quella volontaria ma di fatto non hanno certo agito per eliminare la schiavitù istituzionale quella giuridica il pensiero della cosmopoli dischiudeva invece a Seneca negli ultimi anni della sua vita quando Nerone lo aveva ormai allontanato dalla sfera del potere un vasto orizzonte mentale di valori impermeabili e intaccabili dall'esterno era una forma di autodifesa e al tempo stesso un messaggio anche per quanti si sarebbero venuti a trovare nella sua stessa situazione chi sono dunque propriamente i membri autentici di questa comunità che coincide con l'intero cosmo di fatto per gli stoici sono i saggi perché la maggior parte degli uomini è fatta di stolti propriamente quindi solo i saggi sono autenticamente cosmopoliti mentre i più restano inevitabilmente tagliati fuori sono per così dire esuli dalla cosmopolis anche l'ampliarsi del ristretto spazio politico delle poleis greche grazie dapprima alle conquiste di Alessandro e poi all'imporsi dell'impero di Roma non porta mutamenti radicali nel modo di concepire il cosmopolitismo che continua a conservare i tratti essenziali conferitigli dall'elaborazione stoica ad Alessandro è stato attribuito il sogno fondato sulla convinzione che Zeus è il padre di tutti gli uomini di una fratellanza universale e gli avrebbe puntato a vedere le razze umane nel mondo a lui noto vivere in comunanza grande portato dell'ellenismo ma giustamente è stato anche obiettato che da Zeus padre comune dell'umanità non è inferibile automaticamente l'idea di una fratellanza universale si tratta pur sempre di una unione di popoli sotto un unico nuovo governo di matrice prevalentemente ellenica come era quello di Alessandro così secoli dopo neppure un imperatore stoico come Marco Aurelio che pure sentirà fortemente il suo legame di parentela di particella individuale con la totalità cosmica cercherà mai di dare forma politica al cosmopolitismo l'idea dell'unità del genere umano può essere uno dei presupposti del cosmopolitismo ma può anche e qui forse rispondo in parte a quello che diceva Franco può anche essere compatibile con visioni gerarchiche dell'umanità dipendenti dall'assunzione di criteri di rilevanza che portano a distinguere le figure che più si approssimano alla figura di vero uomo nella nozione di vero uomo rispetto agli altri pensate alle dicotomie greci barbari romani non romani e ad attribuire ai primi un'egemonia sui secondi cioè il solo ampliarsi dello spazio non esclude la possibilità di tracciare altre volontiere nel mondo mediterraneo ormai ellenizzato prospettive cosmopolitiche filtrano ormai anche in contesti religiosi fortemente caratterizzato come la comunità giudaica di Alessandria di Egitto negli scritti di greci di Filone appunto Alessandrino il primo secolo dopo Cristo anche Filone riprende la dicotomia stoica saggio-stolto ribadendo che lo stolto è esule incapace di essere membro della vera polis anche egli qualifica il cosmo come la megalopolis fondata su un'unica costituzione un'unica legge egli è uno dei pochi a usare esplicitamente l'espressione cosmopolites quindi in ambito ebraico per qualificare l'uomo che segue la legge della natura egli dice che non ci si sbaglia nel chiamare Adamo non solo il primo uomo ma anche unico cosmopolites per Adamo infatti prima del peccato il cosmo era polis e casa sicché gli seguiva necessariamente la legge divina che regge l'universo intero ma prima ancora di questa del primo uomo di questa polis cosmica dovevano esserci altri cittadini altri politai e questi non potevano essere che quelli che nella tradizione cristiana sono noti come angeli quindi anche gli angeli abitatori di questa cosmopolis si apriva però con gli angeli a noi ovviamente suona strano ovviamente ma si apriva qui anche la prospettiva di poter proiettare il cosmopolitismo in un orizzonte escatologico e profetico di una futura attuazione del regno messianico alla fine dei tempi anche in ambiente cristiano alla città umana verrà affiancandosi esemplarmente in Agostino come sappiamo la città di Dio e sullo sfondo erano l'universalismo cristiano e la sua dimensione missionaria che non ha confini geografici e linguistici si rivolge a tutti gli uomini ma l'Ecclesia è un corpo mistico per il quale le distinzioni politiche e sociali sono ancora una volta come nella prospettiva stoica irrilevanti rispetto alla vita cristiana e questo rinvia al tempo stesso un altro spazio distinto da quello terreno uno spazio abitato da Dio e dalle anime la vera patria come deprecherà poi Machiavelli per esempio diventa il cielo ma ciò rinvia al tempo stesso un altro spazio distinto appunto da quello terreno si avverte in queste prospettive la presenza come di una doppia cittadinanza una doppia appartenenza non sempre le due coincidono o si sommano o si armonizzano di fatto non è possibile una doppia lealtà dove ci sia conflitto di qui la pretesa di modellare la città terrena su quella celeste era l'impero di Roma che aveva introdotto una sorta di doppia cittadinanza sovente al mondo delle poleis greche di Atene in particolare così restì a concerto della cittadinanza ad altri a degli stranieri è stata contrapposta a Roma così liberale invece nell'estendere la cittadinanza romana prima i latini poi agli italici e infine a tutti i sudditi liberi dell'impero con il famoso edito di Caracalla del 212 questo significava partecipare fisicamente e moralmente almeno in linea teorica con limiti censitari a un insieme coerente di diritti e doveri più grande della patria di nascita c'è la patria del diritto una comunità giuridica che fino alla fine della Repubblica era quella del libero esercizio dei diritti politici una patria più grande più che propriamente duplice questo lo troviamo celebrato per esempio in un discorso in un elogio di Roma di un retore greco del secondo secolo dopo Cristo in cui appunto esalterà Roma proprio per aver fatto due parti di coloro che vivono sotto il vostro impero avete dappertutto dato la cittadinanza come una sorta di diritto di parentela con voi come il mare che accoglie fiumi da ogni parte cito avete fatto sì che l'essere romano fosse nome non di una polis ma di un genos comune che cosa comportasse l'essere cittadino romano nell'impero lo si può vedere dall'esperienza di San Paolo raccontata negli atti degli apostoli a Filippi in Macedonia Paolo e i suoi compagni sono arrestati vengono battuti con le verghe poi i magistrati riconoscono l'errore vogliono rilasciarli di nascosto però ma Paolo obietta ma noi siamo cittadini romani rilasciateci quindi apertamente confessando il vostro errore grazie e così poi a Gerusalemme quindi che cosa garantiva l'essere cittadino romano garantiva un sistema di appunto garanzie civili e giudiziarie una sorta di protezione ma resta aperto il senso dell'essere cittadino romano qui non è il cittadino politicamente attivo che interviene nelle decisioni politiche cioè all'interno della nozione di cosmopolitismo è presente una valenza che nessuna delle esperienze antiche ma temo ancora nessuna delle esperienze moderne esaurite cioè quella di dare alla parola politesi il suo senso pieno cioè di cittadino politicamente attivo che interviene nelle deliberazioni che riguardano il destino di tutti quanti gli uomini non solo di alcuni non solo di alcuni stati eccetera quindi come dire l'esperienza antica del cosmopolitismo è stata importante perché intanto perché ha cognato questa parola che è portatrice di questa dimensione io credo per ora utopica che ci stanno sempre ancora davanti ecco in qualche modo ma al tempo stesso di averci dato un po' la grammatica anche di questa parola cioè una serie di concetti che gravitano intorno a questa nozione ma io vorrei riprendere in realtà alcune delle cose dette adesso da Beppe Cambiano ma anche prima da Franco Sbarberi però una una come dire una rapidissima premessa io penso che il tema del cosmopolitismo oggi sia uno dei temi che dobbiamo cercare di affrontare a cavallo tra due dimensioni che erano poi quelle che emergevano sia dall'introduzione di Franco sia dalla bellissima e dottissima relazione di Beppe proprio a cavallo tra la dimensione dell'utopia concreta e del realismo appassionato cioè l'Occidente è attraversato da grandi autori da grandi figure che possono essere in qualche modo assegnate all'una dimensione o all'altra il principe di Machiavelli è realismo o è utopia è una esattamente nel punto di intersezione tra utopia concreta e realismo appassionato per l'appunto io penso che proprio in questo senso dobbiamo cercare di di muoverci anche noi e prima considerazione diciamo ho molti appunti ma evito di leggerli cerco di dire qualcosa anche alla luce di quello che ho ascoltato finora le alterne vicende del del cosmopolitismo anche nel anche nella cultura italiana del novecento l'enciclopedia italiana cioè dico prima Franco ricordava il 68 che aveva una forma di cosmopolitismo diciamo culturale un po' in tutti i paesi oggi siamo molto meno cosmopoliti di quanto fossimo negli anni 60 probabilmente anche noi anche più problematici abbiamo sentito anche da Beppe ma se andiamo a vedere l'enciclopedia italiana l'enciclopedia treccani non c'è la voce cosmopolitismo c'è la voce internazionale redatta da Rodolfo Mondolfo nel 1933 dove si tocca il tema del cosmopolitismo ma non c'è la voce cosmopolitismo era un concetto che dava che dava fastidio anche all'operazione eppure molto molto come dire molto lungimirante dal punto di vista politico-culturale di Giovanni Gentile e poi naturalmente rimedia si rimedia con l'enciclopedia delle scienze sociali con la voce molto molto puntuale attenta curata di Massimo Mori che ha dedicato proprio una voce molto precisa molto puntuale ma siamo ormai in anni molto vicini a noi in anni molto vicini a noi questo naturalmente pone un problema allora ci sono due argomenti due argomenti se volete anche due forse anche due pregiudizi chiamiamoli così contro il cosmopolitismo ma fino a un certo punto due pregiudizi il primo argomento non so quanto pregiudiziale ripeto è che il cosmopolitismo sia una ideologia una illusione da intellettuali la famosa republique de lettres che in fondo poi va dal mondo antico fino al settecento cioè sono gli intellettuali se lo possono permettere di non essere patriottici di non essere appartenenti a un determinato luogo a una patria una nazione ma in realtà l'individuo comune colui che si impegna colui che si impegna in qualche modo non può non appartenere se pensate qui salto non faccio un discorso filato storicamente che l'ha fatto già Beppe Cambiano benissimo ma l'atteggiamento ambivalente di Rousseau su questo punto e certamente ci sono delle grandi figure che hanno aderito al cosmopolitismo ma molti intellettuali che si professano cosmopoliti in realtà sono sono dei predicatori che razzolano male predicatori che razzolano male cioè parlano bene ma poi in realtà nella pratica nella pratica non rispettano non rispettano le leggi le leggi del proprio paese non si impegnano nel luogo in cui vivono e dunque importanza del sentimento nazionale importanza dell'educazione razionale dell'educazione nazionale come vedete è molto sfaccettata la cosa quindi questa è la prima obiezione è un sogno degli intellettuali oppure è una sorta di ideologia di un ceto che è un ceto fondamentalmente di apolidi che può vivere in relativa comodità anche nell'esilio questo è un po' il primo argomento secondo argomento è il cosmopolitismo che è un argomento anche più duro anche più serio perché ne va ne va anche di posizioni politiche sullo scacchiere internazionale notevolissime il cosmopolitismo è il cavallo di troia dell'economia e della finanza globale cioè il cosmopolitismo è una ideologia in qualche modo che serve fondamentalmente a a fare prevalere a fare prevalere i grandi poteri economici e finanziari che si avvalgono del cosmopolitismo per come dire per assoggettare una serie di aree alle loro strategie e naturalmente questo implica un'opposizione molto forte da parte di una serie di paesi un ritorno di come si dice in gergo un ritorno di sovranismo un ritorno alla alle sovranità nazionali rivendicazioni appunto di sovranità nazionali in particolare in alcuni paesi dell'America Latina come sappiamo dal Brasile dal Brasile all'Argentina una rivendicazione della sovranità nazionale contro questa diciamo maschera del cosmopolitismo che difenderebbe i grandi poteri finanziari qui naturalmente la la storia è una storia che va ripercorsa in alcune tappe noi abbiamo fondamentalmente due versioni del cosmopolitismo quella che potremmo chiamare una versione forte una versione forte del cosmopolitismo per la quale vi è un'unica stirpe umana vi è un unico genere umano e questa è l'idea che fondamentalmente si è imposta anche appunto con regimi Beppe nella grande sofistica anche la grande sofistica in parte cioè quando quando Ippi ha citato o meglio messo in scena da Platone nella Repubblica dice che tutti gli individui umani poi bisogna vedere chi sono gli individui umani appunto chi sono gli uomini come tu hai detto l'umano è sempre stato un terreno di scontro nel corso dei secoli è stato sempre un terreno di contesa la definizione di ciò che è umano e di chi è appunto di chi ha diritto alla definizione di umano e beh dice fusei u nomo cioè per natura non per convenzione non per legge non per convenzione sono uguali gli stoici probabilmente io penso che come tu anche hai detto gli stoici tengono insieme invece sia la fuses che il nomo tendono gli individui umani sono sono in qualche modo cittadini del mondo sia dal punto di vista della ragione sia dal punto di vista della natura e la prima questione diciamo che scottante che oggi ritorna io insomma vengo adesso un po' all'oggi no? che si pone si pone fondamentalmente con un passaggio che è un passaggio che precede il modello diciamo vestaliano europeo l'organizzazione dell'Europa sulla base di un sistema panneuropeo di stati sovrani territorialmente chiusi i famosi appunto trattati di pace di Münster e di Osnabrück del 1647-48 che pone fine alla guerra dei 30 anni pone fine anche a un ciclo di guerre civili confessionali sanguinosissime e via dicendo che poi è il modello Hobbes in qualche modo che emerge nella ecco prima però noi abbiamo una una vicenda che secondo me ritorna nei dibattiti contemporanei e cercherò di vedere rapidamente come ritorna e ritorna sulla base di un'alternativa che i giuristi gius naturalisti che però avevano letto attentamente le fonti del diritto romano da Grozio a Pufendorf in qualche modo c'è un'alternativa tra ius gentium o civitas maxima e lì il problema fondamentale l'ordine internazionale è un ordine è un ordine che ha come diciamo soggetti di riferimento leggenti le nazioni indipendentemente che le nazioni abbiano uno stato o meno c'è tutta la questione i popoli senza stato i diritti dei popoli eccetera o la civitas maxima che in qualche modo poi l'ideale che parte da quei dibattiti dell'epoca precedente il modello vestaliano e la teorizzazione obesiana e che è fondamentalmente è fondamentalmente l'idea che poi Kelsen poi ripropone Hans Kelsen la civitas maxima un po' l'idea di Bobbio che Bobbio anche se Bobbio diceva è difficile poi realizzare una cosa di questo genere però l'idea è che i popoli i popoli le nazioni diciamocela tutta le nazioni sono importanti per l'esperienza per la storia per la lingua ma non devono essere i soggetti privilegiati della civitas maxima questo è il dato fondamentale allora lì qui noi abbiamo una 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 delle questioni cruciali penso della del tema del del cosmopolitismo oggi che è ancora più cruciale del rapporto tra cosmopolitismo e federalismo qui proprio per evitare di farla lunga qui noi abbiamo una 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 situazione che ha un rapporto molto stretto con almeno il rischio che io vedo un rapporto molto stretto con il modo in cui il discorso kantiano che Franco ha descritto molto bene dalla dalla idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica fino alla pace perpetua dove l'espressione pace perpetua su Mavigan Frieden che sembra un po' buffa il titolo che sembra un po' buffo pace perpetua eccetera era stato messo con grande ironia da Kant perché era la insegna della birreria che stava davanti al cimitero di Königsberg su Mavigan Frieden per la pace perpetua quindi è chiaro che Kant non pensa a una pace perpetua non pensa a una fine della storia un'assenza di conflitti pensa però a un mondo che possa essere organizzato come un grande diciamo governo planetario di tipo federale ecco questo modello di Kant è attaccato poi da Herder come è noto Herder fa tutto un discorso ben preciso Herder fa un discorso in cui dice che in realtà la la storia universale e anche l'idea di umanità va articolata nelle nelle forme di vita nazionali che si danno era molto diciamo era molto abile il discorso erderiano cioè l'idea dell'umanità kantiana è un'idea diciamo trascendentale in quanto esistenzialmente povera perché trascende dalle concrete forme di vita linguistiche soprattutto in cui le diverse nazioni si vengono a trovare gli individui all'interno delle diverse nazioni si vengono a trovare ma il problema del modello erderiano che poi è un problema che ritorna dal dal 1980 fino al dibattito attuale ritorna nei dibattiti sul multiculturalismo oggi e via dicendo vedremo anche con quali conseguenze è l'idea che ogni nazione ogni contesto culturale è intrinsecamente omogeneo intrinsecamente omogeneo è lì il problema fondamentale di conseguenza la nazione intesa in senso linguistico e culturale va considerata come un soggetto come un soggetto referente di ogni discorso intorno all'universale ecco io penso che qui abbiamo un un autore afro inglese che conoscete che ha lavorato che ha scritto delle cose importanti sul cosmopolitismo cioè come Anthony Appiah ha criticato questa sorta di momento erderiano che sta attraversando il dibattito sul multiculturalismo e ha rivendicato la costituzione la costituzione plurale di ciascuna cultura intrinsecamente plurale di ciascuna cultura e di ciascuna lingua contro l'idea che esistono degli stati nazioni monoetnici dei gruppi monoetnici delle culture delle culture in qualche modo dotate di una intrinseca unità omogeneità e compattezza faccio un esempio il massimo candidato monoetnico nel contesto del discorso che stiamo facendo sarebbe il Giappone dove il 99% della popolazione si identifica come giapponese ma in realtà noi sappiamo che la grafia e i caratteri sono di origine cinese la religione più diffusa indiana in Giappone che esistono circa 15 diverse lingue giapponesi e che dentro le lingue bisogna anche mettere il giapponese dei segni che è riconosciuto anche dagli etnologi dunque la gente per usare un termine molto corrente la gente in genere non vive né ha mai vissuto in un contesto culturale come dire omogeneo né in uno stato monoculturale vengo molto rapidamente all'implicazione diciamo se volete anche filosofica e politica di quello che sto dicendo sì anche federale io sono assolutamente per la soluzione federale questo sicuramente ma vengo diciamo però al punto noi abbiamo noi assistiamo oggi stiamo assistendo oggi e ne è una conferma il dibattito che stiamo facendo per un verso sul ritorno della sovranità e per l'altro verso sul multiculturalismo noi stiamo assistendo alla fine all'esaurimento dei due principali modelli di integrazione nella cittadinanza che abbiamo conosciuto in occidente intendo integrazione democratica della cittadinanza adesso parlo di modelli non antichi ma moderni perché poi i modelli antichi c'è quello della repubblica romana e naturalmente poi c'è il modello dell'impero romano la cittadinanza cittadinanza imperiale dove dove anche un ispanico come Marco Aurelio poteva scendere i gradi della carriera fino a divenire imperatore quindi non era non era una cittadinanza puramente un allargamento come dire puramente formale o retorico della cittadinanza stessa e i modelli che si stanno esaurendo li possiamo definire sinteticamente uno è il modello repubblic e l'altro il modello londonistan uno è il modello che è il modello diciamo di integrazione nella cittadinanza di tipo assimilazionista repubblicano quello che proviene poi da da un'esperienza storica che io ammiro immensamente io sul comodino da quando sono studente liciale un ritratto di San Giust quindi la passione ho una passione che mi lega molto a quello e però è il modello per il quale l'integrazione avviene all'interno di una sfera della cittadinanza indifferenziata siamo tutti citoyen senza differenze di religione di cultura di estrazione sociale di sesso questo modello di sfera pubblica indifferenziata ho sottolineato molto senza differenza di sesso perché Madame Olampe de Gouges ne seppe qualcosa perché quando si azzardò a pubblicare la dichiarazione dei diritti della donna non ebbe abbracci né pacche sulle spalle né complimenti dai giacobini ma fu condannata a morte e fu ghigliottinata perché in qualche modo osava rivendicare dichiarare i diritti di una parte sia pure una parte che era la metà dell'umanità contro la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino guardate questo è un problema molto serio questo non è un problema e lo dico da appassionato del modello rivoluzionario francese e l'altro è il modello che potremmo chiamare che io chiamo londonistan per fare divertire i miei studenti è il modello in cui la sfera pubblica è esattamente il contrario di quella che è nel modello francese la sfera pubblica è uno spazio in cui tutte le differenze i gruppi devono presentarsi con i loro rappresentanti nella loro presuntiva omogeneità tutti quanti e di conseguenza noi abbiamo da un lato una sfera pubblica della cittadinanza indifferenziata per l'altro verso abbiamo una sfera pubblica della cittadinanza che è articolata in ghetti contigui in ghetti contigui quella che una brava studiosa americana di questi problemi Seila Benabib chiama il modello multiculturalista a mosaico dove le tessere del mosaico non entrano mai fra loro in rapporto ma tendono ad escludersi a vicenda il problema è che il problema secondo me della della cittadinanza universale o del cosmopolitismo oggi è il problema della difficoltà e quindi chiudo non con una soluzione o perlomeno soltanto accennandola ma ponendola a questione da un lato sciogliere il come dire l'ambiguità su un punto l'affermazione l'affermazione dei diritti dei diritti cosmopolitici è una formazione dei diritti innanzitutto individuali o dei diritti innanzitutto dei popoli dei gruppi e via dicendo in secondo luogo in secondo luogo è possibile tenere insieme l'imperativo dell'universale dell'universalità e l'imperativo anche della differenza io penso nei miei lavori ho proposto la formula ossimorica anche questa di un universalismo della differenza e non dell'identità che in qualche modo vuole da un lato evitare i problemi dell'universalismo identitario di tipo giacobino e dall'altro verso però evitare il rischio dell'anti-universalismo delle differenze culturali che è proprio delle versioni forti del multiculturalismo è possibile che l'idea più vicina a una soluzione di questi problemi che sto cercando di rideclinare sia quella della civitas romana cioè uno spazio giuridico e politico suscettibile di includere in sé una molteplicità di naziones di gentes ma a condizione di rispettare appunto rigorosamente la legge cioè quella formula che consente a Paolo di Tarso di dire civis romanus sum cioè io come religione mi riconosco nella religione di Gesùa di Nazareth che io ritengo sia il messia ma dal punto di vista dello spazio politico universale io sono cittadino di Roma bene io penso che probabilmente questo forse è il livello più prossimo alla soluzione a cui noi siamo pervenuti ma i problemi da definire articolare sono ancora moltissimi vi ringrazio per l'attenzione abbiamo due tre minuti e quindi il tempo eventuale per una o due domande rapidissime telegrafiche anzi guardate bisogna chiudere perché devono preparare allestire e cambiare anche un'ora avevamo un'ora e un quarto un'ora e dieci ma ne abbiamo purtroppo quando siamo in tre io ho parlato meno di voi ovviamente doverosamente ma purtroppo ci manca ci sarebbero state domande magari se qualcuno di voi poi finendo noi e sciamando come Socrate e i suoi amici continuiamo in un angolino a parlare e sollevare qualche problema forse si può ancora grazie a tutti e a presto arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti